Ciao a tutti, eccomi qua, sono ancora senza trucco ma, vabbè, scusate, niente, non avevo voglia di truccarmi assolutamente stamattina. Volevo farvi vedere i miei prodotti sacchettone terminati di aprile, oggi è il 2 maggio, ho aspettato il 2 maggio per farlo, perché ieri ero via, semplicemente per quello, però sono tutte cose che ho finito nel mese di aprile. Non sono tantissime perché mi è venuto in mente di fare questo video guardando il video di una persona in cui sono iscritta al suo canale e ho capito che comunque come video mi piace anche perché vedi cosa finisci, cosa non finisci, magari ti focalizzi specialmente su un prodotto che hai lì da tempo che non sai come finirlo e dici, oh, voglio assolutamente finirlo così faccio il video. Quindi ho iniziato non tantissimo i primi di aprile ma dopo Pasqua, quindi ecco perché le cose non saranno tante. Però partiamo subito. Allora, ho finito il mio pacco di salvette, queste qua sono salvette umidificate, 72 salvette, non sono gettabili nel WC. Gli ingredienti sono abbastanza buoni perché contiene acqua, fragranza, vabbè, però anche l'avena non ha schifezze, diciamo, tantissime. E materie prime biologiche certificate. Sono senza alcol, senza nickel, senza parabeni, profumo ipolargenico, pH fisiologico e made in Italy. Però a me non è piaciuta la profumazione. La profumazione invece è stata qualcosa di un po' più chimico. A parte profumazione, a parte fanno il loro effetto, nel senso che io lo usavo anche per struccarmi se facevo gli swatch dei trucchi, per struccarmi spesso anche proprio gli occhi, mi è capitato. Come salvette intime perché veramente il lince è buono. Oppure per rinfrescarsi un po', scelle e quant'altro. Io da una parte ve le consiglio, dall'altra io non le ricomprerò per un semplice fatto che non mi piace l'odore. Poi ho finito questo sapone mani qui, della linea Nier che trovate all'Eurospin. Questo è gusto neutro rinfrescante con estratto di olivo e talco. Il profumo è veramente buono, a me piace tanto, però io ho visto che mi sto trovando le mani secche. Spero che sia un discorso che sta facendo caldo freddo caldo freddo e non che sia un discorso invece di prodotto perché dice che le foglie di oliva aiutano a mantenere la pelle liscia e profumata. Non saprei cosa dirvi, comunque gli ingredienti sono buoni. Ha un PEG7 piccolino però verso a metà insomma, glicerina. E non ha neanche il tetrasodium e DTA quindi non è inquinante. Io questo devo capire se effettivamente le mie mani sono secche a causa di lui. Però se non avete grandi problemi di secchezza questo ve lo consiglio. C'è anche in versione azzurra ma mi piace molto di più il... Ahia, me l'ho sentita sul naso. Molto di più la profumazione così. Poi ho finito i miei dischetti di cotone. Questi qua li ho presi da Primark. Costano 75 centesimi, 100% cotone e sono 120 pazze. Eccoli qua. Poi ho finito i miei assorbenti della Nuvenia. Voglio includere anche questi. E questi sono di notte, oltre a sottili, però assorbono veramente tanto. Quindi anche per flussi abbondanti. Sono belli, lunghi. Voi li vedete sottili e dite oddio non assorbirà nulla. Invece lo fanno, fanno il loro lavoro. Sono sottilissimi però veramente ottimi, ottimi. Questo lo ricomprerò sicuramente. Dopodiché ho finito anche questi assorbenti qua. Sofisol Extra. Sono quelli un po' più... Un po' più grossi, ecco. Però all'interno ce ne sono 10. Anche questi li ho già ricomprati. Ho già un altro pacco. L'unica cosa è che, se qualcuno lo sa, fatemelo sapere. Vedete che c'è un codice. Devo informarmi se si possono detrarle. Perché questi qua in teoria sarebbero... Ah, sono fatti anche nelle buste singole. Quindi ogni assorbente ha la sua bustina. Questi qua però, se io non sbaglio, sono... Non c'è scritto in italiano, porta miseria. Sono assorbenti quelli tipo terapeutici, diciamo. Non so come spiegarlo. Quindi devo informarmi. Però ho già il pacco nell'armadio. Dopodiché ho finito queste salviette qua a sorbello. Per le mani. Di solito le uso per le mani. Però se sono in giro ed è finita la carta igienica, ok. Ma non ve lo consiglio assolutamente. Perché al secondo posto hanno un fantastico PEG 40. Dopodiché tutto il resto è abbastanza buono. Perché hanno anche l'aloe, la glicerina, bisabololo, pantenolo. Il problema è che il PEG 40 al secondo posto potevano un po' risparmiarselo, ecco. Solo che io avevo finito le mie salviette e ero in giro disperata e sono stati i primi che ho trovato e ho comprato. Se voi non controllate l'inci ve lo consiglio comunque per avercelo sempre in borsa per tutti i mille usi, ecco. Sono 20 all'interno. Se controllate l'inci evitate. Io più che altro controllo l'inci specialmente non tanto per le mani ma per un discorso se mi servono come salviette intime, insomma. sono riuscita a terminare dopo una vita adoro però il profumo non l'ho terminata quasi ne manca un po' adesso potrei finirla del tutto questa Nivea aspettate questa crema qua Nivea Q10 crema giorno light feeling anti rughe SPF 15 allora l'inci delle creme Nive sappiamo non dobbiamo dire niente io però mi sono trovata bene perché ha il fattore protezione 15 ed era l'unica crema che io mettevo al mare sotto 40 gradi che non mi faceva colare la faccia non mi faceva venire fuori i brufoli e quindi la usavo come crema solare ce l'ho qua da qualche anno quindi il primo anno l'ho usata come crema solare ultimamente la usavo come crema per mettermi prima di andare a dormire in faccia e poi sulle mani e la profumazione è buona veramente buona mi piace tantissimo io ve la consiglio soprattutto se dovete oddio esporvi un pochino al sole perché con la protezione 15 io con questa qua non mi sono mai bruciata e ripeto non mi ha fatto venire fuori i brufoli quindi finita ma straconsigliata ho finito questo shampoo qua poi della botanica shampoo purificante per capelli con forfora non è il mio problema però volevo adesso che fa caldo fa caldo faceva caldo perché poi adesso è ritornato al freddo volevo uno shampoo che lavasse bene ed è questo qua estratti di limone gli ingredienti sono buoni e fatemi vedere se è alto tra sodium e DTA e non ce l'ha quindi non è non è inquinante è italiano e lo trovate nelle distribuzioni MD LD Market questo finito ma straconsigliato e lo ricomprerò sicuramente dopodiché ho finito la vitamine dermina polvere agli estratti vegetali tapioca riso frumento e mais sarebbe un classico borotalco preso vabbè in farmacia accosticchia anche un pochino volevo non comprarlo però prima di finirlo avevo deciso di acquistare un'altra confezione al mentolo per l'estate peccato che ho visto che all'interno ci sia la paraffina liquida ormai l'ho comprato e ormai lo dovrò usare però controllate se questo qua perché adesso non mi ricordo più se ha la paraffina solo quello del mentolo e questo si salva o se tutti e due se questo non ha la paraffina all'interno comunque è un ni nel senso che ve lo consiglio perché comunque mi sono sempre trovata bene assorbe il sudore anche sotto al seno perché è al seno abbondante lo usavo perché mi era venuto fuori delle problematiche me l'aveva consigliato il dermatologo nel linguine quindi comunque anche curativo ve lo consiglio l'unica cosa ripeto controllate questo discorso qua di paraffina o no perché sinceramente il talco è una cosa che si mette anche tutti i giorni anche più volte al giorno e sparmarmi tipo due o tre volte il corpo di paraffina magari ne farei anche a meno ho finito il mio rasoio non mi ricordo più che diavolo di marca sia però io li ho finiti tutti questi qua fatti così non so se magari ve li conoscete ve lo straconsiglio è morbidissimo lascia la pelle morbida zero irritazioni io lo uso anche per la totale inguine eccetera eccetera avete capito e zero irritazione zero brufoli zero peli incarniti morbidissimo taglia però non taglia cioè non vi sbregate le gambe eccetera eccetera quindi straconsigliati devo solo capire che marca è e correre a comprarli e sono tre tre lame però hanno la prima il primo strato che era imbevuto di aloe consigliatissimi ho finito come potete vedere la crema a mani peperosa c'è il riflesso che rompe peperosa della della bottega verde ve lo dico io perché così non si vede ed è buonissima c'è ancora un profumo ve la straconsiglio lascia le mani morbide però non unte quindi potete prendere qualsiasi oggetto subito dopo in mano che non lo perdete via a mani in cuore ho finito il primer occhi vecchio della Kiko hanno detto che quello nuovo non funziona come quello vecchio adesso al momento sto usando uno della Elf e quindi punto di domanda lo ricompriamo o non lo ricompriamo ho finito la maschera dei capelli non è vero un tubo la usavo come maschera dei capelli però poi l'ho usata anche come crema corpo dermocrema all'aloe della Omnia Botanica io non la sopporto gli ingredienti sono perfetti ma non l'ho sopportata oltre all'odore ma perché faceva ascia bianca anche se ne mettevate poco comunque eravate tutte bianche dovevate spalmare 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 e ancora spalmare e non idratava un tubo quindi super bocciata ho finito il burro cacao dell'Himalaya queste ne comprerò una vagonata ho finito i miei cerottini della Essence sia per il naso che per il resto e li ho già comprati quindi straconsigliati ho finito la maschera nera come ingredienti questa qua è anche perfetta acqua glicerina e coso nero ma non mi ha fatto un tubo maschera viso della Geomar queste mascherine qua sono carine costano pochino pochissimo e hanno anche un buon inci e sono carine da portare in giro quindi queste le ricomprerò sicuramente fanno abbastanza il loro effetto ho finito la matita come potete vedere penso che più un moncherino di così non posso fare ho finito la matita sopracciglia della Essence sono dispiaciuta tantissimo per chi ne avevo comprato una più chiara che comunque la sto utilizzando lo stesso ma questa è la mia preferita andrò sicuramente a ricomprarla e ho finito la crema viso della Clinique qui kit per pelle impura numero 1 2 sapete ecco io adesso ho finito le altre le avevo già finite secoli fa e adesso ho finito la crema viso questo kit ve lo straconsiglio sia da portare in vacanza sia da tenere a casa fa veramente il suo effetto ci sono 3 kit diversi per ogni tipologia di pelle ve lo consiglio costicchia un pochino lo trovate la coin però è straconsigliato detto questo posso fare la raccolta differenziata e ci vediamo al prossimo video ciao ciao